Allora, Olimpia, Legnaia 62 e Aliana 60. Con questa partita 5 vittorie, 5 sconfitte. Bilancio ottimo. No, 5 vittorie, 5 sconfitte e bilancio normale. Bene, siamo contenti. Difficile, all'intervallo eravamo sotto 10, giocavamo, ci eravamo in difesa, l'avevamo preparato anche bene. Per una volta mi faccio un complimento da solo. Se non fai anestro a questo gioco non vinci con nessuno. Bene, bene, bene. E nel primo tempo cos'è che non era andato per il verso giusto? No, primo tempo 17-12, primo quarto 17-12 Legnaia, poi 9-24 nel secondo quarto. Ho fatto presente ai ragazzi, statisticamente parlando, noi i primi quarti abbiamo preso 20 punti sempre perso. Giustamente siamo ragazzi furbi, diciamo. Prendiamo le 12 il primo, ma 24 il secondo, perché se no non si può fare a meno. No. Stasera ti mancava cambi, però, diciamo, Trillò e Del Secco l'hanno sostituito al meglio. Oggi ho giocato in 11, mi dispiace per un ragazzo che non è entrato, di solito noi proviamo a metterli sempre tutti. Questa è l'Olimpia Legnaia, fatta di sacrificio, entrano tutti, chi ce la fa gioca, chi non ce la fa gioco uguale in panchina. Matteo è una perdita importante, oggi non l'abbiamo sentita, speriamo si rimetta presto e ci fa comodo a noi. Allora, ultima domanda, prossimo impegno a Siena. Trasferta difficile ma non impossibile. Trasferta difficile ma non impossibile, sì. Ora abbiamo Siena, poi abbiamo Lucca e poi si inizia l'anno nuovo il botto con il derby. Per me vincere oggi è sera 10, devo dire un complimento ai miei ragazzi, oggi è già Natale. Io non credo nelle feste, però proviamo ad andare a Siena a vedere chi siamo, tutto qua. Grazie. Grazie.